Ad alta voce. Tommaso Ragno, legge, Dracula, di Bram Stoker. Traduzione, di Rosanna Pelà. Diario del dottor Seward. 3 ottobre. L'attesa del ritorno di Godelming e di Quincy Morris ci è sembrata interminabile. Il professore cercava di tenere occupate le nostre menti, stimolandole in continuazione. Ho capito che aveva un intento benefico dalle frequenti occhiate di traverso che di tanto in tanto lanciava ad Arker. Il poveretto presso da un'angoscia che fa spavento. La notte scorsa era un uomo dall'aria felice, con un viso schietto, forte, giovane, pieno di energia, e aveva i capelli castano scuro. Oggi è un vecchio stralunato, teso, i cui capelli bianchi si accordano perfettamente con gli occhi febricitanti e incavati e le rughe che la sofferenza gli ha impresso sul volto. Ma la sua energia è rimasta intatta, infatti è come una fiamma ardente. E può essere questa la sua salvezza, perché se tutto andrà bene, lo aiuterà a superare il periodo della disperazione, ed egli, in un certo senso, si potrà ridestare alla vita. Povero diavolo, io pensavo che i miei guai fossero abbastanza gravi, ma i suoi. Il professore se ne rende conto e fa del suo meglio per tenergli la mente occupata. Quello che ci ha raccontato era, date le circostanze, di enorme interesse. Si tratta di questo a quanto ricordo. Ho studiato e continuato a studiare da quando li ho avuti tra le mani tutti i documenti che riguardano questo mostro. E più li ho studiati, più sembra grande la necessità di distruggere lui completamente. Dappertutto vi sono segni del suo progresso, non solo del suo potere, ma anche della sua consapevolezza di esso. Come ho appreso dalle ricerche del mio amico Arminius, di Budapest, in vita, egli è stato un uomo molto portentoso, soldato, uomo di stato e alchimista, e quest'ultima, a suo tempo, era il massimo sviluppo di conoscenza scientifica. Lui aveva un cervello potente, una cultura senza paragone un cuore, che non conosceva né paura né rimorsi. Ha osato perfino frequentare la scolomanzia, e non c'era ramo del sapere di suo tempo, di cui lui non si occupava. Bene. In lui, i poteri cerebrali hanno sopravvissuto a morte fisica, sebbene sembra che la sua memoria non era completa. In certe facoltà mentali è stato, ed è ancora, come un bambino, ma sta crescendo. E certe cose che in principio erano infantili, adesso hanno raggiunto statura di adulto. Lui fa esperimenti, e anche bene, e se non era che noi abbiamo attraversato sua strada, lui diventava, e forse diventa, se noi facciamo fallimento, il padre o il promotore di un nuovo genere di esseri, la cui strada deve passare attraverso la morte, e non la vita. Archer ha avuto un gemito, poi ha detto, e tutto questo è schierato contro la mia diletta. Ma di quali sperimenti si tratta? Il saperlo ci potrebbe aiutare a sconfiggerlo. Da quando lui è venuto qui, lui ha continuato a mettere alla prova suoi poteri, ad agio, ma sicuramente. Bene per noi che fino adesso lui ha ancora cervello infantile, perché si osava fin dal principio tentare certe cose. Da molto tempo lui andava al di là di nostri poteri. Tuttavia lui intende riuscire. È un uomo che davanti ha secoli. Può permettersi di aspettare, e procedere ad agio. Festina all'ente, può benissimo essere sua divisa. Non riesco a capire, ha detto Archer stancamente. Parlate in modo più semplice. Forse il dolore e il turbamento mi ottenebrano la mente. Il professore gli ha posato con tenerezza una mano sulla spalla, rispondendogli. — Sì, figliolo mio, sarò chiaro. Non vedete voi come in ultimi tempi questo mostro ha penetrato in conoscenza facendo esperimenti, e come ha fatto uso del paziente zoofago per effettuare suo ingresso nella casa di amico John, perché il nostro vampiro, anche se dopo può andare come lui vuole, la prima volta può entrare solo se invitato da un abitante della casa. Ma non sono questi i suoi esperimenti più importanti, e noi abbiamo visto che da principio tutte quelle così grandi casse erano trasportate da altri. Lui non sapeva allora, ma deve essere così. Ma in tutto questo tempo che un così grande cervello infantile cresceva, lui ha cominciato di pensare se non poteva spostare lui stesso le casse. Così ha cominciato di aiutare, e poi, quando ha visto che andava bene, ha provato a muovere le casse da solo, e così è andato avanti, e ha sparso queste sue tombe di lui, e nessun altro che lui sa dove sono celate. Può avere voluto seppellirle più profondo nel terreno, così che se lui le usa solo di notte, o nei momenti che lui può trasformare sua forma, per lui va sempre bene, e nessuno può sapere che sono questi i suoi nascondigli, ma, figliolo mio, non disperate, queste conoscenze vengono a lui troppo tardi. Già tutte sue tane, escluso una, sono sterilizzate, e prima di tramonto sarà anche questa. Allora lui non ha più un posto dove può andare a nascondersi. Io ho ritardato questa mattina, per poter essere più sicuri. Non c'è in gioco più per noi che per lui? Allora perché non essere ancora più prudenti di lui? Il mio orologio adesso segna l'una, e già, se tutto è bene, amici Arthur e Quincy, sono in via di ritorno. Oggi è la nostra giornata, e dobbiamo procedere, sicuri anche se lento, e non perdere occasioni. Vedete, quando gli assenti ritornano, noi siamo in cinque. Stava ancora parlando quando un colpo alla porta principale ci ha fatti sussultare, il colpo ripetuto due volte dei fattorini del telegrafo. D'impulso siamo andati tutti nell'atro e Van Helsing, alzando una mano per invitarci al silenzio, è andato ad aprire la porta. Il fattorino gli ha consegnato un dispaccio. Il professore ha richiuso la porta e dopo aver dato un'occhiata al nome del destinatario ha aperto il telegramma e l'ha letto ad altavoce. Attenzione a D. C'è stata una breve pausa interrotta dalla voce di Jonathan Harker, «Dunque, grazie a Dio, ci vedremo presto!» Van Helsing si è voltato subito verso di lui per dirgli «Dio agisce a suo modo e tempo, non avete timore, ma non rallegratevi ancora, perché quello che noi vogliamo adesso può essere nostro annientamento. Non me ne importa nulla a questo punto», ha ribattuto Jonathan con calore. «Voglio soltanto cancellare questo brutto dalla faccia del creato, venderei la mia anima pur di riuscirvi!» «O zitto, o zitto, figliolo mio!» ha esclamato Van Helsing. «Dio non compara anima in questo modo, e il diavolo, se anche le può comprare, non mantiene fede alle promesse. Ma Dio è misericordioso e giusto e conosce vostro dolore e vostra devozione a quella cara Madame Mina. Pensate a come si raddoppia sua sofferenza se sente vostre parole sfrenate. «Non avete timore di noi, tutti siamo devoti a questa causa, e oggi vedrà sua fine, è venuto tempo di azione. Oggi questo vampiro è limitato a potenza di uomo, e fino a tramonto non può cambiare. Ci vuole tempo a lui per arrivare qui, vedete, è l'una e venti, e c'è ancora tempo prima che può essere qui, anche se non è mai andato così in fretta, quello che abbiamo da sperare, e che Milord, Arthur e Quincy arrivano prima!» Circa mezz'ora dopo che avevamo ricevuto il telegramma della signora Harker, abbiamo sentito qualcuno bussare seccamente alla porta principale. Era un colpo normalissimo, il solito colpo che migliaia di persone danno in continuazione. Eppure è bastato per accelerare il battito dei nostri cuori, il mio e quello del professore. Ci siamo guardati prima di dirigerci insieme nell'atrio, entrambi pronti a usare le nostre varie armi. Quelle spirituali nella mano sinistra e quella materiale nella destra. Van Helsing ha fatto scorrere il catenaccio e tenendo la porta socchiusa è rimasto indietro, con le due mani preparate per l'azione. La gioia dei nostri cuori di aver essere stata evidente sui nostri volti, quando abbiamo visto sui gradini, accanto all'uscio, Lorgo, Delming e Quincy Morris, essi si sono affrettati a entrare e a chiudere la porta, e il primo ha detto, mentre attraversavamo l'atrio, tutto bene, abbiamo trovato due posti, sei casse in ciascuno e le abbiamo distrutte tutte. Distrutte? Ha chiesto il professore. Per lui! Dopo un minuto di silenzio Quincy ha detto, ora non abbiamo altro da fare che attendere qui, ma se lui non si presenterà entro le cinque, ce ne dovremo andare, perché non è il caso di lasciare sola la signora Harker dopo il tramonto. «Lui arriva qui presto, ora!» ha decretato Van Helsing dopo aver consultato il suo taccuino. Nota bene. Telegramma di Madame dice che lui è partito da Carfax verso sud, che vuol dire che lui è andato per attraversare il fiume, e questo può fare solo con bassa marea, che deve essere circa prima dell'una. Che lui è andato a sud significa qualcosa per noi. Lui adesso ha qualche sospetto, ed a Carfax è andato prima nel posto dove meno lui sospetta nostra interferenza. Voi dovete essere stati a Bermondsey solo poco tempo prima di lui, che lui non è qui. Adesso dimostra che dopo è andato a Mile End. Questo ha preso a lui un po' di tempo, perché allora ha dovuto farsi trasportare in qualche modo al di là di fiume. Credete a me. Amici miei, ora non abbiamo più molto da aspettare. dobbiamo avere pronto qualche piano di attacco così che non buttiamo via nessuna possibilità. Zitti. Ora non è più tempo. Avete tutti i vostri armi. State pronti. Parlando, alzava la mano in segno di ammonimento. Infatti tutti udivano il rumore di una chiave che veniva inserita nella serratura della porta principale. perfino in questo frangente non ho potuto fare a meno di ammirare la maniera con cui uno spirito autorevole riesce ad affermarsi. In tutte le partite di caccia e avventure in ogni parte del mondo era sempre stato Quincy Morris a organizzare il piano d'azione e Arthur e io avevamo preso l'abitudine di seguirlo implicitamente. in questo momento è sembrato che la vecchia consuetudine si rinnovasse distinto. Con una rapida occhiata in tutta la stanza egli ha subito stabilito il nostro piano di attacco e senza dire una parola ma a gesti ci ha messi in posizione. Van Helsing, Harker e io ci siamo appostati dietro la porta in maniera che quando fosse stata aperta il professore potesse sorvegliarla mentre noi due ci saremmo interposti tra Dracula e l'uscio. Quincy e Godelming il primo davanti e l'altro dietro si tenevano fuori dalla visuale pronti a lanciarsi verso la finestra. Aspettavamo in uno stato di ansia che ci faceva sembrare ogni secondo lunghissimo come negli incubi. Abbiamo sentito passi misurati e cauti attraversare il vestibolo. Evidentemente il conte era preparato a qualche sorpresa o almeno la temeva. D'un tratto con un valso entrato nella stanza riuscendo a superarci prima che nessuno di noi potesse alzare una mano per fermarlo. I suoi movimenti parevano quelli di una pantera avevano un carattere inumano che ci ha subito scossi dalla violenta emozione provocata dal suo ingresso. Il primo ad agire è stato Archer il quale si è scagliato con una mossa fulminea di fronte alla porta che portava la stanza sul davanti della casa. Non appena il vampiro ci ha visti sul suo volto è apparso un orribile ghigno malvagio che ne ha messo in mostra i canini superiori lunghi e aguzzi ma il diabolico sorriso si è trasformato subito in un'espressione di sdegno belluino che però è mutata di nuovo quando tutti spinti da un comune impulso siamo avanzati verso di lui. Peccato che non avessimo avuto il tempo di preparare un piano d'attacco meglio coordinato perché fino in quel momento mi domandavo che cosa avremmo fatto. Io stesso non sapevo se le nostre armi letali ci sarebbero state utili evidentemente Harker intendeva sperimentarlo perché spoderato il suo gran coltello cucri l'ha assalito con repentina violenza il colpo era stato formidabile e il conte si è salvato soltanto per la diabolica prontezza con cui è saltato indietro sarebbe basato un secondo di più e la lama affilata gli avrebbe spaccato il cuore invece la punta gli ha semplicemente lacerato la stoffa della giacca producendo un ampio squarcio da cui sono caduti un fascio di banconote e un fiume di monete d'oro l'espressione del conte era talmente feroce che sul momento ho temuto per Harker nel vederlo sollevare di nuovo il suo terribile coltello per sferrare un altro colpo e in un impulso protettivo mi sono fatto avanti istintivamente alzando nella mano alzata il crucifisso e l'ostia consacrata mi sono sentito percorrere il braccio da uno straordinario flusso di energia e senza stupore ho visto il mostro indietreggiare di fronte a una mossa come la mia spontaneamente messa in atto da tutti gli altri sarebbe impossibile descrivere l'espressione di odio e di malvagità beffata di collera e di rabbia infernale che si è dipinta sulla faccia del conte il suo colorito cereo si è fatto di un giallo verdastro in contrasto con i suoi occhi di fuoco e la rossa cicatrice della fronte spiccava sulla pelle pallida come una ferita palpitante un istante dopo con un moto serpentino scivolato sotto il braccio di Harker prima che quest'ultimo lo potesse colpire ha afferrato una manciata di monete sul pavimento e attraversando a precipizio la stanza si è scagliato contro la finestra tra il rumore e il breglio dei vetri infranti e piombatori sotto sul selciato del cortile e attraverso il fracasso dei vetri che andavano in pezzi ho potuto sentire il tintinio dell'oro mentre alcune sovrane si sparpagliavano sull'astrico siamo corsi alla finestra e l'abbiamo visto sollevarsi da terra in colome fare i gradini a precipizio dalla parte opposta del cortile e spalancare la porta della scuderia poi si è voltato a parlarci voi credete di poter confondere me voi con quelle vostre pallide facce messe lì in fila come pecore al macello ma avrete da pentirvene tutti quanti vi immaginavate di avermi lasciato senza un posto in cui riparare ma io ne ho altri la mia vendetta è appena incominciata per compierla io ho a disposizione secoli il tempo è dalla mia parte le donne che voi tutti amate sono già mie e attraverso di esse voi come altri sarete miei creature mie soggette ai miei voleri a diventare i miei sciacalli quando vorrò nutrirmi con un sogginio di disprezzo avarcato la soglia della porta e noi abbiamo sentito scricchiolare il chiavestello arrugginito mentre se lo chiudeva alle spalle dall'altra parte una porta si è aperta e richiusa il primo a parlare è stato il professore mentre ci dirigevamo verso l'atrio rendendoci conto tutti quanti dell'impossibilità di seguirlo attraverso la scuderia qualche cosa abbiamo noi imparato anzi molto nonostante sue parole ardite lui teme noi teme tempo teme bisogno infatti se non è così perché si affrettava tanto è il suo tono che tradisce lui o le mie orecchie ingannano me e perché ha preso quel denaro voi seguite lui in fretta voi siete cacciatori di animali selvaggi e sapete come fare quanto a me io assicuro che qui non rimane niente che può servire a lui caso mai che ritorna così parlando si è messo in tasca il denaro rimasto ha preso il fascio di documenti dove Harker li aveva lasciati e ha gettato gli altri oggetti nel camino che poi ha acceso con un fiammifero a Grazie a tutti.